E bella ragazzoli e benvenuti su questo nuovissimo video. Che per caso ragazzi avete intenzione di comprare una nuova skin o una nuova emote nello shop e anche supportarmi allo stesso momento? Bene ragazzi, da oggi è possibile farlo e per fare questa procedura basta semplicemente andare su negozi oggetti, cliccare su questo pulsante in basso a destra, supporto a un creatore, e semplicemente andare a scrivere la parola Croatomist. Facendo così ragazzi ogni volta che voi shopperete qualsiasi skin o comunque i v-back nel gioco, supporterete anche me indirettamente. Ovviamente ringrazio tutti coloro che decideranno di supportarmi all'interno del gioco e ovviamente ragazzi mi invito anche a lasciare un bel mi piace a questo video. Detto questo, buona visione! Grazie! 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 Grazie a tutti. Ok, 6 kill, 42 life. Let's go, baby. Eh, l'ho già mangiuta prima la panda, l'ho mangiuta una intera. No, no, please, non mi seguire, non me ne sono neanche accorto. Oh mio dio, no, che che mi sta dietro, che chiappe, no, 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 no. Dai, lasciami stare. Lasciami. No, 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 no. No, 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 no. i capelli che mi sono dando una noia allucinante i capelli che mi sono andati 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 vendite le band vendite le band vendite le band vendite le band Gesù ti amo che mi sono andati che mi sono andati se li trovo tutti e tre ragazzi faccio venti bombe ma devo trovare tutti quanti che mi sono andati che mi sono andati che mi sono andati ultimo ultimo che mi sono andati 20 bombe 20 bombe baby a casa avete capito easy 20 bombe 20 bombe 20 bombe